allora voglio dire questi tastieri da leone, questo cipo questi? i tastieri da leone, questo cipo che vuol dire tastieri da leone? spiegamelo cosa hai noto? non si èpe allora che tastiera da leone è? una cosa hai noto? non si èpe, di chi è caldo? però si dice scusami, il leone è una tastiera leone è una tastiera da leone io non mi andavo al comuzzo questo cipo, un paio diceva, non è igienico, non è lavato questo cipo fa cento anni e io non lo cambio per la faccia di invidio dei tastieri da leone? dei tastieri perché questo cipo mi ha portato il pane a casa ma prima aveva il rotondo, io ho le fotografie il rotondo a me è finito quel rotondo l'ho distrutto si è aperto nel mezzo come una moriglia tagliata come si chiama? e si chiama cipo si chiama cipo tu hai conservato questo ma questi sono nuovi questi sono nuovi si chiama cipo chi vuoi dire cipo? un cipo, avanti un pezzinino 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 perché è un circo rettangolare non è circolare perché cos'è rettangolare? non è circolare quello che è circolare non è rettangolare tu sei nei condividi ecco mi dice un po' nasci tu non pu' morire qua bravo, no, no chi nasce mattina non pu' morire fulato si è provato chi nasce mattina non pu' morire fulato ti mandi via non pu' morire mochetto allora c'è quello chi nasce mattina non pu' morire fulato dai ma lo sai cos'è? è sempre la somma che fa il totale capito? perché 2 più 2 non fa sempre 4 capito? povere Italia se non so è un pazzo colazione a Palermo mi raccomando questa dedica è dedicata ai sedi da leone questa dedica? è dedicata ai sedi da leone questa roba ma che vuol dire i sedi da leone? i sedi da leone? i sedi da leone? i sedi da leone e così la può dire che uno scende per lavorare ma è usata l'anno di risolta usaremo usaremo un po' chi dice usaremo un suo talera non sai nulla io non so nulla sono quello modello non sai chi è? a frema che? a costa a far mangiare la pepe la due a canale a canale? a quanto è che tu non sali a montepellegrino zio? io? la samba vuol dire che salire a montepellegrino che vuol dire? eh? che vuol dire? shakerare quindi a Palermo vuol dire quando dice salire a montepellegrino significa accianare shakerare che vuol dire shakerare poi dice che sono io a Palermo si dice quando salire a montepellegrino significa? shakerare shakerare e shakerare significa? che vuol dire? fare l'amore fare l'amore eh? un amore con il sapore il sapore è un amore allora